La notizia del delfino parlante ha già fatto il giro del mondo. Il cetaceo in questione si trova qui, in questo splendido delfinario italiano, dove tutti i giorni grandi e bambini possono vedere i delfini giocare a palla e divertirsi in simpatiche coreografie e acrobazie davvero spericolate. Qui i delfini sono a stretto contatto con gli addestratori, ma nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo negli ultimi giorni. Noi siamo andati ad ascoltare e a riprenderlo in anteprima. Ecco le prime immagini del delfino parlante. Sui delfini, non credere a tutto quello che ti dicono. Purtroppo non parlano. E se potessero, ci direbbero che nei delfinari vivono come prigionieri. Affamati, sono costretti a esibirsi in cambio di cibo. Diventano aggressivi, si ammalano di più, muoiono prima. La verità è questa e non è affatto un bello spettacolo. Per fermarlo per sempre, serve la tua firma. Ora, liberiamo i delfini su www.love.it slash laveralibertà.